E' guarito l'ultimo paziente covid di Agropoli, ma la compagna risulta nuovamente positiva. E' un uomo originario di Cava dei Tirreni, ma residente nel centro occidentano. Il ragazzo non ha più il coronavirus, ma la compagna, contagiata, poi risultata guarita da settimane, ieri con un nuovo tampone di verifica, è stata dichiarata nuovamente positiva. La donna, fortunatamente, è sempre rimasta in isolamento, in quanto convivente di una persona affetta dal virus. Sulla sua nuova positività si attende però il tampone di verifica per capire se realmente ha il coronavirus una seconda volta. Con la guarigione dunque dell'ultimo caso, resta solo la conferma della guarigione della donna, il Cilento si appresta, dopo quasi quattro mesi, a diventare covid free. Risale infatti al 26 febbraio il caso positivo di Montano Antiglia, con la biologa di 27 anni rientrata da Cremona. Fu il primo caso nel Cilento e tra le prime due positività registrate in tutta la regione Campania. Nel territorio a sud di Salerno, ricordiamo l'emergenza covid, ha fatto registrare due casi avvibonati, quattro a Casalvelino, uno a Laurino, uno a Perdifumo, due a Sessa, uno a Serramezzana, uno a Capaccio, quattro a Vallo della Lucania e 29 ad Agropoli, dove purtroppo sono stati registrati anche tre decessi. Quella del ragazzo di Cava dei Tirreni, tra gli ultimi contagiati nella città del sindaco Adamo Coppola, è stata una vera e propria odissea. La sua vicenda ha inizio il 10 marzo.